E' all'insegna di una giornata di sole che prende il via la 17esima edizione del trofeo Melinda, la corsa trentina che si svolge tra la Val di Sole e la Val di Nonna. Queste sono le immagini della partenza questa mattina da fondo. Vediamo Stefano Garzelli, vincitore dell'edizione 2005, e il campione italiano Filippo Simeoni. Qui si avvicendano gli uomini della NCC OTC alla firma, al forio firma, e qui è Franco Pelizzotti, reduce dalle Olimpiadi di Pechino. Via ufficiale dunque da Malè e il campione italiano nelle prime posizioni del gruppo. Una partenza contraddistrita da una velocità subito molto sostenuta. Al chilometro 15 si forma l'attacco a un gruppetto di 17 unità, comprendenti Stangel, Ackermann, Ungerbühler, Inoue, Camussa, Pagoto, Possoni, Pinotti, Keula, Scotti, Niemec, Cattaneo, Dotti, Cairelis, Ferrari, Trafficante e Spilevski. Una fuga che si protrae ancora per pochi chilometri, al chilometro 31 il gruppo tornerà compatto. Queste sono le immagini degli atleti attaccanti. Qui invece abbiamo il primo attacco serio, quello operato dal polacco della Mika Silver Cross, Niemec. Un tentativo molto importante che raggiungerà un massimo vantaggio di due primi e 45 secondi. Il gruppo è tirato dagli uomini della Likikas e che al chilometro 120 annullerà l'attacco del corridore polacco. Prenderà poi corpo a un giro dalla fine il tentativo di Lomqvist, che sarà seguito appunto, cercheranno Solari e Sinicinas della Cinelli di portarsi su di lui. Interverranno poi particolarmente attivi Bosisio, Pelizzotti e Reda. Ecco le immagini di Bosisio, Pelizzotti e Reda che si portano piano piano sui battistrada. La giornata a questo punto è stata in Val di Nossi, caratterizzerà per la pioggia vattente che li accompagnerà sino all'arrivo. Fasi concitate agli ultimi passaggi al Gran Piemio della Montagna. Sarà Pelizzotti che si riporta sull'Lomqvist e che praticamente tentano di avvantaggiarsi. Prendono un po' di vantaggi sul gruppo degli immediati inseguitori, la corsa si va via via facendo sempre più selettiva, si registrano molti abbandoni intorno al gruppo. E a mano a mano che si procede, ci si avvicina al Gran Piemio della Montagna di Lonzone, procedono di comune accordo Pelizzotti e Lomqvist, alle loro spalle Schebelin, Bertagnoli e via via tutti gli altri. Ci si avvicina a questo punto al Gran Piemio della Montagna di Lonzone, ecco Pelizzotti che precede Lomqvist su questo GPM. Dietro di lui c'è Schebelin, sempre brillante il corridore russo. Il gruppetto è segnalato a intorno ai 30 secondi. Al chilometro 172 i due battistrada saranno raggiunti. A questo punto il gruppo rimane compatto e piano piano seguiranno varie schermaglie e ci si avvicina all'arrivo. Ecco le immagini dell'arrivo. A 500 metri tenta Bertagnoli, prova a portarsi sotto Garzelli ma niente da fare. Bertagnoli precede sull'arrivo Garzelli e poi di seguito Finetto, Fumagalli, Giunti, Anzà, Lomqvist, Reda, Pietropolli, Sinicias e poi ancora Callegarin, Bosisio e Mosè. Ecco le immagini di un felice Bertagnoli avvinto nel suo paese, nel borgo natale di Fondo. Veramente una gran bella affermazione. C'era stata la vittoria di Bertagnoli a Camaiore e poi due piazzamenti al tritico Lombardo. Ecco qui che Bertagnoli venne premiato con il simbolo del frutto della sua terra, la mela della Val di Nonna. Adesso il podio Bertagnoli, Garzelli ed il giovane Finetto. Grazie. Grazie. Grazie.